The Batman, film del 2022 per la regia di Matt Reeves, con protagonista Robert Pattinson nel ruolo dell'uomo pipistrello, un film con una sceneggiatura impeccabile, una fotografia spettacolare, una colonna sonora che ti fa vibrare il torace. Ciò nonostante, a scanso di equivoci, se siete stati rapiti dal titolo del mio video, ciò nonostante non mi ha emozionato. E andiamo a scoprire perché. Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica film in uscita e nella rubrica DC Comics. Era un po' che non sfogliavamo queste rubriche, tantomeno insieme era dal lontano The Suicide Squad. Film che a differenza di questo The Batman fa tuttora parte dell'altalenante e incostante DC Extended Universe. Invece The Batman, che inizialmente doveva essere appunto un film sul Batman di Ben Affleck, anch'esso ambientato all'interno dell'EC Extended Universe, per diversi motivi, non ultimo la rinuncia a Ben Affleck di dirigere il film, poi di farne la parte da protagonista, hanno cambiato la conduzione di questo progetto, facendolo diventare a tutto e per tutto un progetto indipendente. Esattamente come è successo per Joker. Per lo stesso motivo, tra l'altro, il film Joker doveva essere il film Joker e Harley Quinn con Jared Leto e Margot Robbie. Subito il dubbio di molti è stato, ma abbiamo davvero la necessità di vedere l'ennesimo Batman scollegato da un universo più ampio e scollegato dall'interazione con gli altri supereroi, con il resto del mondo della DC Comics, il resto del DC Extended Universe che comunque c'è, per darci un'interpretazione realistica che abbiamo già visto nella trilogia di Nolan, una interpretazione oscura che abbiamo già visto nella trilogia di Nolan e nella trilogia di Tim Burton, scusate, nella duologia di Tim Burton, per molti la risposta è stata ovviamente no, per altri la risposta è stata sì, datemi sempre lo stesso Batman. Io onestamente non avevo il minimo interesse per questo film, ma devo dire che i primi trailer sul medesimo mi hanno davvero fomentato. Vedere quelle inquadrature su Gotham, quel tramonto, quei colori, anche quella nuova interpretazione a livello estetico dei costumi mi aveva incuriosito non poco, mi aveva incuriosito il pinguino, vederlo finalmente come un losco uomo d'affari e non come un uomo deforme come ce lo aveva dipinto Tim Burton. Mi incuriosiva da morire vedere l'enigmista finalmente oscuro, dopo la coloratissima e apprezzatissima versione di Jim Carrey, che però non ci sarebbe in un film così e non avevamo mai avuto una controparte così seria, ci volevamo capire come sarebbe stato un enigmista in un film così verosimile, così realistico e questo lo abbiamo avuto. Ma perché allora tutto quello che ho visto in queste tre ore di film a conti fatti una volta uscito dalla sala non mi ha fatto venire voglia di rifiondarmi dentro a rivederlo? L'aspetto sul quale si focalizzano la maggior parte delle recensioni positive, che sono appunto la maggior parte, è il fatto che non si era mai visto un film di Batman così incentrato sulla detective story. Un Batman meno di azione ma più investigatore, più detective, dal momento che Batman nei fumetti è il più grande detective del mondo. E su questo do ragione a chi dice questa cosa. Io non vedevo l'ora di vedere l'aspetto da detective di Batman, che comunque non era mai stato toccato in modo approfondito nei film precedenti. Nei film di Barton e nei film di Schumacher era stato approfondito l'aspetto supereroistico, l'aspetto d'azione dove Batman dà pugni e calci al nemico. Nella trilogia di Nolan era stato vagamente sfiorato l'aspetto detective, soprattutto nel Cavaliere Oscuro, ma non era mai stato approfondito in un'indagine completa dall'inizio alla fine. Non vedevo l'ora di vedere un film di indagine, anche perché davvero era l'unico elemento mancante alla trasposizione del pipistrello, se lo vogliamo vedere in chiave realistica, perché poi tutto il resto bisognava entrare nella sfera più legata alla Bat Family, alla sfera più colorata, alla sfera dove Batman si apre ad altri supereroi che prende sotto la sua ala di pipistrello e li cresce. E devo dire l'indagine c'è, ed è tanta, c'è dall'inizio alla fine, però quello che io mi aspetto da un film che fa un'indagine, da un film thriller, è scoprire chi c'è dietro, è scoprire chi è l'assassino. Ho sentito molte vai positive, ma non avevo la curiosità morbosa di arrivare alla fine di questo film. A due terzi del film, quindi alla fine della seconda ora, io mi sono reso conto che non me ne fregava nulla di quello che poteva esserci dietro all'enigma finale, dietro a tutti i trucchi psicologici dell'enigmista. Non mi importava, non ero affezionato a nulla. Questo perché forse la detective story che ho visto fondamentalmente andava davvero a scoperchiare un vaso di Pandora in pieno stile Gotham, quindi una trama molto importante, molto grossa, molte carte che venivano scoperte per quanto riguarda la città di Gotham, ma che però toglievano in un certo senso l'interesse personale. Forse se fosse stata un'indagine più mirata a indagare sulla scomparsa di una persona, su una serie di omicidi, di persone con cui lo spettatore poteva confrontarsi, poteva rispecchiarsi maggiormente, probabilmente anch'io sarei stato più fomentato, sarei stato più rapito da questa pellicola. Invece questa indagine è talmente poliziesca da lasciarmi passivo e indifferente. Come ho detto all'inizio, la forma c'è, la sceneggiatura c'è, non stiamo parlando di Spider-Man No Way Home, che è completamente trainato dall'effetto fanservice. Qua c'è una solidissima sceneggiatura, la forma di questa solidissima sceneggiatura è davvero confezionata alla perfezione. Perfezione non proprio, ma poi lo guardiamo nella parte spoiler. Comunque è girata, è sceneggiata, scusate, molto molto bene. E la fotografia, come il trailer stesso ci aveva mostrato, aiuta tantissimo. La fotografia è spettacolare e la colonna sonora in generale è molto bella. Ma anche la colonna sonora contribuisce nella grave pecca che mi ha dato questo film, che è, rullo di tamburi, la mancanza di enfasi. Questo film racconta una detective story dove il lavoro di indagine si svolge mano a mano, ma non sembra poi così tanto merito del protagonista, tra parentesi, e non ci fa affezionare a nulla. Perché se la sceneggiatura è molto interessante, la regia pecca di mancanza di enfasi. Sapete cos'è l'enfasi? Avete presente quella cosa che Zack Snyder fa con ogni singola scena? Ecco, qua non c'è in nessuna scena, o meglio, c'è in una scena, che poi vi dico nella parte spoiler, per farvi capire che cosa intendo con enfasi, che però manca nei momenti più salienti. questo mi fa perdere il contatto con quello che dovrebbe essere più importante o meno importante nella pellicola. Questa cosa il regista non ce la dice, non ce la comunica. Dobbiamo farla nostra, dobbiamo carpirla da soli, ma se il regista non mette una firma da questo punto di vista, non ci fa una zoomata in senso metaforico, non ci fa una piccola scena dove il tempo viene un attimino dilatato, non sto parlando del rallenty di Zack Snyder, sto dicendo dove il tempo viene un attimino dilatato magari da delle sequenze anche di piano della colonna sonora, dove si capisce che c'è un momento un po' più sentimentale, dove si capisce che c'è un momento dove quel sentimento è preponderante, allora diventa tutto documentaristico e io non voglio vedere un documentario su Batman, non voglio vedere un documentario spettacolare su come sono riusciti a trasporre benissimo una storia a fumetti al cinema, no, io voglio vedere un film, un film che mi emoziona e questo film non mi ha emozionato. Ma allora perché se è una trasposizione perfetta di una detective story di Batman al cinema non mi ha dato le stesse sensazioni di un fumetto di Batman? Perché forse, dico forse, tutto questo elemento iperrealistico nel fumetto quando Batman fa un'indagine è controbilanciato dalla schiera di pazzi maniaci coloratissimi che sono la sua rogue gallery, il Joker, due facce, l'enigmista stesso, il pinguino, Poison Ivy, eccetera, eccetera. Questo controbilancia con l'elemento fantasy il realismo che Batman mette nelle sue indagini. Tutto questo elemento fantasy non c'è perché il regista lo ha tolto, ha scremato ancora di più, ha fatto un lavoro di scrematura ancora maggiore rispetto a quello di Nolan su tutto ciò che è il lato fantasy di Batman. Però se Nolan aveva tenuto quel tanto che basta per renderlo interessante, qua invece diventa davvero povero di questo elemento fantasy. E una detective story raccontata in questo modo, in modo privo di enfasi, senza un elemento fantastico, fantastico, con solo un vigilante mascherato, un proto-Batman, perché appunto è un Batman molto giovane, non dà le sensazioni che dovrebbe dare. È una crime story molto bella, ma non è il genere di film che vorrei vedere, a meno che io non mi voglia annoiare. Ovviamente anche l'ultimo elemento è la lunghezza del film, tre ore di film, due ore e cinquantacinque. Molte persone uscite dalla sala hanno detto non si sono sentite assolutamente, concordo per la maggior parte del tempo. Io non ho sentito assolutamente le prime due ore del film. Tra la seconda e la terza ora ero stanco, stanco di vedere il protrarsi di questa indagine, di cui sono molto felice che si sia protratta dopo un certo avvenimento, perché ha senso, ma l'avrei risolta in meno tempo, o quantomeno avrei accorciato un po' qua e un po' là due ore e quaranta, due ore e trenta, due ore e venti, forse ce l'accavavamo lo stesso, il ritmo sarebbe stato leggermente più coinvolgente, emozionante. Sia chiaro col ritmo, non intendo che il film deve essere veloce, pieno di azione, intendo dire che ci deve essere una determinata cadenza che è dettata dal regista. In questo periodo le serie Marvel ci hanno abituato a mostrarci delle serie TV che fondamentalmente erano dei film allungati. Questo film di Batman mi ha dato la sensazione opposta, ovvero ho appena visto una serie TV compattata in un film di tre ore, ma davvero sarebbe stato molto più interessante vedere una mini serie di tre, sei puntate in cui Batman fa quello che ha fatto in questo film. Ovviamente il mio giudizio non è assoluto, è relativo a tutti gli altri film di Batman che ho visto, alla mia esperienza generale con gli altri film di Batman. Non lo reputo assolutamente un cattivo film, ma dopo tutti gli altri film che ho visto di Batman avrei voluto qualcosa di più o di diverso, ho avuto forse qualcosa di diverso, ma qualcosa di diverso che di cui a quanto pare non avevo tutto questo bisogno come pensavo di avere. Se volete saperne di più sulla mia personale classifica di Batman, lunedì sarò in live sul mio canale Twitch e ne parlerò insieme ad altri ospiti. Se avete visto già il film potete continuare a seguire questa recensione nella parte spoiler. se invece non avete ancora visto il film noi ci vediamo nella seconda parte dopo che avrete visto il film così capirete meglio il mio punto di vista anche se so che non lo condividerete. Se avete visto il film ci sarà anche una live spoiler sempre sul mio canale Twitch il 10 marzo questa volta anche lì con altri ospiti che annuncerò sul mio Instagram. Spoiler tra 3, 2, 1 via. Parliamo subito dell'elefante nella stanza no, non è la Batmobile che ha appoggiato sul divano parliamo del fatto che ho detto molte volte che in questo film manca enfasi cosa intendo con enfasi? Enfasi è una una caratteristica una un'inquadratura un piccolo rallenty qualcosa su cui il regista si focalizza con la macchina da presa per farci capire che quell'elemento è importante ecco l'unica cosa su cui ho visto un guizzo di regia dal punto di vista dell'enfasi è stato quando Batman Bruce Wayne nota gli stivali di Catwoman Batman nota gli stivali di Selina Kyle e grazie a quel dettaglio ha dei dubbi su dove può essere Selina Kyle prima è guidato dagli stivali fino a scoprire che Selina Kyle è coinvolta nella storia dell'uccisione del sindaco dopodiché invece si sbaglia quando vede degli stivali accanto alla ragazza che sta accompagnando Falconi però ecco questo dettaglio degli stivali è quello che io mi aspetto quando parlo di enfasi ecco questo dettaglio io l'avrei voluto vedere in tante altre scene dove invece è mancata assolutamente l'enfasi è mancato assolutamente il pathos ora parlerò con voi dei vari protagonisti di questa pellicola e vi dirò i pro i contro vi dirò se questo personaggio nel contesto della pellicola mi ha entusiasmato o non mi ha entusiasmato e poi approfondirò anche appunto il discorso sulle scene dove avrei voluto una maggiore enfasi cominciamo con il protagonista The Batman l'uomo pipistrello ovviamente Batman e Bruce Wayne medesimi sicuramente Batman è un Batman alle prime armi è un proto Batman anche se il film a un certo punto dice chiaramente che questo vigilante è in giro da due anni collabora con Gordon che non è ancora commissario da ben due anni quindi è come se fosse un Batman Begins 2.0 ciò nonostante questo Batman che è comunque in giro da due anni non ha ancora imparato moltissime cose sia dal punto di vista tattico sia dal punto di vista dell'arsenale sia dal punto di vista della sua crescita personale questo film forse grazie anche a quello che succede alla fine con la città che viene inondata dalla diga lui che si rende conto che non può essere vendetta ma deve essere anche speranza che non può essere un vigilante ma deve essere anche un supereroe allora lì forse ok si accorge e fa questo percorso di crescita perché magari prima non ci sono stati grossi eventi che lo hanno portato a questa crescita però ripeto un Batman che è in giro già da due anni e che è ancora così acerbo francamente non mi ha entusiasmato tantissimo dal punto di vista tecnico come dicevo vediamo questo Batman che ha un arsenale tecnologico al punto di avere delle lenti a contatto che riprendono quello che fa in modo da poterlo rivedere in modo da poterlo registrare persino in streaming quando guarda attraverso gli occhi di Selina Kyle ciò nonostante ancora quella grezzissima armatura ciò nonostante non ha ancora una Batmobile completa carroormatosa o che dir si voglia ma semplicemente un'auto da corsa ciò nonostante quando va in giro in moto è ancora in incognito e che potrebbe sembrare un elemento che il regista ha voluto mettere in modo da dare un maggior realismo al fatto che Batman non possa girare tranquillamente in moto con una moto a forma di pipistrello un casco a forma di pipistrello eccetera e ok ma se vuoi mettere un elemento così realistico allora non ti puoi perdere nei dettagli non puoi mostrarmi un Batman che ogni volta che va in moto si mette una giacca e si toglie la maschera per mettere il casco e poi ometti che quando vai in moto con Selina Kyle che non conosce l'identità di Batman ometti il fatto che a un certo punto Batman si dovrà togliere il casco e dovrà mostrarsi ok potrebbe farlo in un vicolo però non è così realistico il fatto che lui ogni volta debba mettersi e togliersi questi elementi per tornare ad essere Batman non è molto realistico così come non è affatto realistico che in questa in questo universo in questa terra in questo Hellsward tutte le persone che sia Batman quando gli esplode una bomba in faccia che sia Alfred quando gli esplode il C4 in faccia che sia il sindaco quando gli sparano all'addome non si fanno un graffio sembra di stare nell'universo di Last Action Hero nonostante voglia essere realistico sotto un certo punto di vista non mi puoi mostrare un Batman a cui esplode una bomba in faccia dove c'è la parte scoperta della sua armatura e non ha neanche un graffio non ha senso questo sbilanciamento di realismo non ha senso Bruce Wayne se Batman è un proto-Batman Bruce Wayne non è assolutamente pervenuto a differenza appunto del Bruce Wayne di Barton un po' così stralunato del Bruce Wayne di Nolan che fingeva di essere un ricco viziato qui abbiamo invece un Bruce Wayne a cui non frega nulla di apparire non c'è assolutamente Bruce Wayne e questa è una scelta voluta lo so del regista però è totalmente immerso nel ruolo di Batman Bruce Wayne non esiste ancora io lo avrei fatto almeno un attimino percepire perché poi sarà molto difficile nel sequel se dovesse appunto mostrare un lato Bruce Wayne sarà molto difficile non vederlo come troppo distaccato da questa pellicola ho appena accennato dell'esistenza di Alfred Alfred interpretato da Andy Serkis mi è piaciuto però per quel poco che ho visto davvero un Alfred non pervenuto anche qui mancanza di enfasi avrei voluto vedere quando vediamo questo Bruce Wayne acerbo ancora viziatello che tratta Alfred come il suo maggiordomo e non come un membro della sua famiglia avrei voluto vedere un maggior diciamo un appunto maggiore su uno sguardo di Alfred qualcosa del genere invece è tutto molto didascalico persino quando appunto poi Bruce Wayne va a trovare Alfred all'ospedale si gli tiene una mano c'è un dettaglio di due mani che si tengono Bruce cerca appunto di parlare ad Alfred e dirgli che si è reso conto solo ora di quanta paura avesse avuto a perdere di nuovo un membro della sua famiglia un momento davvero molto toccante dal punto di vista della sceneggiatura che però non mi ha dato nulla con la regia il tenente Gordon non è ancora commissario e forse ha un senso a livello di trama perché ci sta che venga un po' cazziato dai suoi superiori sul fatto che sta collaborando con un vigilante mascherato uno degli elementi che mi è piaciuto di più è questo Gordon o quantomeno questo rapporto che c'è tra Batman e Gordon un rapporto che così profondo non lo avevamo mai visto mi era piaciuto mi è piaciuto molto di più quello che ho visto nella trilogia del Cavaliere Oscuro ma questo è un elemento diverso che dà una ventata di aria nuova che prima non si era mai vista ovvero una sorta di buddy movie tra Gordon e Batman dove Gordon è il poliziotto stanco come il poliziotto di arma letale che è troppo vecchio per queste stronzate e Batman è il poliziotto matto o se vogliamo anche in base anche alle inquadrature che si sono viste in un paio di scene sembrano i due poliziotti di Seven Morgan Freeman e Brad Pitt ecco in queste in questo contesto questo film ha azzeccato in pieno delle vibes delle sensazioni diverse da altri film la scena quando Gordon finge di minacciare Batman fa uscire tutti gli altri poliziotti per dar loro un minuto per parlare insieme ma è un tentativo per farlo scappare al punto da farsi dare un pugno in faccia da Batman di fronte a tutti è spettacolare una cosa è un rapporto di fiducia tra due persone che non si era mai visto prima a questo livello e fa capire quanto sia corrotto il dipartimento di Gotham forse un dipartimento di Gotham così corrotto non lo avevamo mai visto nemmeno nella serie TV Gotham lasciate perdere la qualità della serie però nemmeno in quella serie abbiamo visto quanto fosse davvero così corrotto così in marcio il dipartimento di polizia qua lo abbiamo visto Selina Kyle Catwoman interpretata da Zoe Kravitz io questa attrice l'avevo solo vista in Animali Fantastici ed era abbastanza monotona cioè non aveva grandi emozioni qua invece vediamo una Zoe Kravitz totalmente immersa nel personaggio una Catwoman fantastica forse anche qua finalmente una Selina Kyle come non l'avevamo mai vista una Selina Kyle la più azzeccata rispetto alla controparte fumettistica io adoro ovviamente la Catwoman di Michelle Pfeiffer è la più emozionante appunto però è un'interpretazione bartoniana della nascita di Catwoman Catwoman è sempre stata una ladruncola da questo punto di vista è più corretta l'interpretazione nolaniana quella di Anne Hathaway dove Catwoman è sempre stata una gattaladra però in quel film nel Cavaliere Oscuro il ritorno la Catwoman di Anne Hathaway era davvero anonima poteva esserci o non esserci non era davvero fondamentale qua invece Selina Kyle è fondamentale vediamo da subito che lei è una ladra e che lo fa per sopravvivere perché è nata nella povertà è nata figlia di una ballerina in un strip club figlia illegittima di un boss mafioso si è dovuta sempre arrangiare nella vita la controparte l'esatto opposto di Bruce Wayne e questa cosa non era mai stata sottolineata così tanto come in questo film attrice favolosa ruolo azzeccatissimo anche qui un paio di scene mi sembra anche il bacio quando si danno un bacio così improvviso prima del finale mi sembra caduto un po' dalle nuvole io l'avrei sottolineato meglio con non lo so con un'inquadratura diversa o con un con un aumento della musica improvviso ecco questa cosa io non l'ho vista però l'interpretazione ci sta tutta il pinguino il pinguino si diceva avesse avuto poco minutaggio rispetto a quanto sembri presente nella pellicola devo dire che questo trucchetto mi è piaciuto tantissimo il pinguino forse appare poco a livello di minuti ma è presente costantemente in tutta la pellicola ed è in un certo senso suo malgrado anche l'elemento comico ma sia molto chiaro non è assolutamente l'umorismo alla marvel o stronzate simili è un umorismo azzeccatissimo per il tono del film Colin Farrell è spettacolare nell'interpretarlo si è camuffato anche fisicamente per interpretare un ruolo del genere e ha azzeccato totalmente il personaggio un personaggio negativo ma con cui si può collaborare esattamente come è il pinguino nei fumetti è cattivo ma non è tra i più cattivi ed è a quel punto che gli puoi chiedere aiuto per sgominare cattivi peggiori di lui e soprattutto lo vediamo in una fase in cui non è ancora sceso al trono di Gotham anche perché nel trono di Gotham ci sono in questo caso Falcone che è successore di Maroni a differenza del fumetto a differenza di altre incarnazioni anche cinematografiche o televisive precedenti qui Falcone è il boss del crimine il pinguino è un suo lacché però non perde occasione di fregargli il posto appena vede che Falcone cade dal suo trono e non vedo l'ora di vedere nel sequel il pinguino che finalmente prende possesso della di tutta questa piovra che era Falcone nel primo film Falcone Maroni anche qua purtroppo qua ci metto la mia pecca di avere un trascorso fumettistico un trascorso cinematografico e purtroppo la mia memoria è fin troppo fotografica quindi mi ricordo precisamente come è stato nelle trasposizioni precedenti non mi sono accorto che appunto Maroni è stato precedente a Falcone quindi non mi è stato molto chiaro all'inizio la presenza di Falcone pensavo fosse un rimando a qualcuno che c'era prima invece Falcone è presente nella cittadina di Gotham un ruolo piccolo l'attore azzeccato però non mi ha dato l'emozione giusta io avrei dovuto forse detestarlo di più forse avrei dovuto essere contento quando lo hanno ucciso forse avrei dovuto essere arrabbiato quando lo hanno ucciso perché ha portato con sé nella tomba tanti segreti invece non ho provato niente non me ne è fregato niente anche perché a quel punto erano già trascorse più di due ore e forse non mi fregava più un cazzo di questa indagine l'enigmista l'enigmista è un cattivo davvero spettacolare finalmente mi è piaciuto vedere questa versione dark dell'enigmista che non avevamo mai visto in live action anche perché quella di Jim Carrey è quella più sopra le righe di tutti non vogliamo neanche parlare del telefilm di Adam West eppure in Gotham per quanto il telefilm tentasse di essere oscuro i suoi villain erano molto grotteschi quindi anche l'enigmista stesso era grottesco qua abbiamo un enigmista come potrebbe essere nel mondo reale mi piace molto che lo abbiano dipinto come potrebbe essere un ipotetico Edward Nygma o Edward Neshton nel mondo reale ovvero un nerd spostato totalmente dalla realtà che è fuori da quello che è umanamente concepibile fuori da quello che è anche l'intelligenza sociale ma con un'intelligenza pure e semplice davvero elevata al punto che ha usato tutta la sua vita per sgominare pulire lo schifo che c'è a Gotham un eroe che scusate un villain che non sa di essere un villain è convinto di essere un eroe al punto che ha coinvolto Batman perché lo vedeva come il suo braccio destro come il suo braccio armato divertente la scena in cui Batman è convinto che Edward Neshton sappia la sua identità quando in realtà lui è solo molto arrabbiato con Bruce Wayne perché è un orfano ricco ma in realtà non sa che Batman e Bruce Wayne sono una stessa persona molto bello come hanno reso nella realtà questa diciamo ignoranza dell'enigmista che appunto finché non riemerge dal pozzo di Lazzaro non è mai riuscito a scoprire l'identità di Batman però ecco invece per quanto riguarda Batman viene come si dice dipinto in modo molto molto negativo rispetto a quello che dovrebbe essere il più grande detective del mondo il più grande detective del mondo si lascia soggiogare dalle proprie emozioni e crede che il suo nemico abbia scoperto la sua identità quando in realtà è solo una sua supposizione dettata dalla paura di essere scoperto l'enigmista fa un lavoro di indagine che poi è parallelo a quello che fanno Gordon e Batman spettacolare ma quello che ho detto all'inizio sull'empasi sul fatto che non mi ha trasportato necessariamente all'interno di questo mondo è perché il lavoro di indagine che fa Batman in questo film è appunto tentare di impedire all'enigmista di uccidere queste grosse personalità che però sono tutte personalità marce e che fondamentalmente con cui fondamentalmente non mi rispecchio cioè in realtà quando l'enigmista colpisce il sindaco io non vedo eliminato un essere umano non vedo eliminato una persona vedo eliminata la carica del sindaco l'emblema del sindaco corrotto non è una persona non è un povero Cristo ma è un simbolo l'enigmista sta eliminando tanti simboli di corruzione e Batman sta indagando per evitare che delle persone muoiano ovviamente oltre a scoprire anche alcuni retroscena di Gotham ma questa cosa a me non porta emozioni mi avrebbe portato molte più emozioni non lo so se l'enigmista avesse lasciato una scia di cadaveri di poveri stronzi che magari si erano coinvolti in alcune cose ma con cui io mi sarei immedesimato di più per esempio la ragazza col livido con cui si accompagnava il sindaco l'amica di Selina Kyle se fosse stato se fosse partito da lì se fosse partito da quell'omicidio magari l'indagine di Batman forse mi sarei più affezionato forse avrei voluto sapere alla fine chi aveva ucciso quella ragazza quella sarebbe stata una detective story anche perché in una detective story lo spettatore vuole essere coinvolto nell'indagine vuole capire magari anche un attimo prima del protagonista chi è stato l'ideale in una detective story sarebbe che il protagonista capisce un secondo prima che lo mostrino cosa c'è dietro a tutto questo qua tutta questa cosa non c'è quindi non è una detective story è semplicemente un documentario sul lavoro di indagine e a me non me ne frega un cazzo quando arrivi a due ore di tre ore totali e non te ne frega un cazzo di vedere come va a finire vuol dire che non è un film fatto come detective story è un documentario su una detective story due chicche finali una su un personaggio e una su una scena in particolare che anche queste non mi sono piaciute la chicca finale è sul Joker il segreto di Pulcinella doveva esserci questo detenuto anonimo che è chiaramente il Joker fortunatamente non si vede si vede in silhouette in controluce si vede un po' la sua figura però uno è già il Joker ok spiegateci ci spiegheranno perché non lo so boh due ha un aspetto davvero grottesco ho appena detto che Matt Reeves è riuscito a rendere tutto molto realistico tranne alcuni scivoloni questo Joker ha l'aspetto di un cosplayer che fa il Joker uno di quei cosplayer che usa tanto make up per allungare il mento per allungare il naso per sembrare un Joker più fumettistico è in contrasto con tutto quanto che cazzo di senso aveva mostrare così tanto la fisionomia del Joker bastava la risata l'avete fatta pure di merda ora io l'ho sentita doppiata voglio vedere com'è quella in originale però basta la risata per far capire che il Joker è il Joker non serve mostrare questo brutto make up vabbè vedremo cosa faranno nel sequel con questo personaggio se lo toccheranno ancora o se aspetteranno ancora un po' ultima cosa non voglio più che la gente si lamenti su nella durata della Justice League di Zack Snyder 4 ore dura tantissimo questo film dura 3 ore mi venite a dire che non le avete sentite per favore per favore l'altra cosa non mi voglio più sentir dire che Nolan non sa girare le scene d'azione e che qua le scene d'azione sono chiare ora non mi riferisco alle scazzottate mi riferisco all'inseguimento tra Batman e il pinguino la scena che si è vista anche nel trailer e che qua abbiamo visto in modo allungato non si è capito un cazzo è stato solamente una susseguirsi di inquadrature all'interno della macchina si è visto a un certo punto che il pinguino era in autostrada ma non si capisce dov'è dove non è non c'è una ripresa aerea che mostra il percorso niente si vedono solo delle esplosioni e la scena fantastica che abbiamo visto anche nel trailer ma non è assolutamente chiara non si capisce il pinguino dove sta andando perché sta andando poteva benissimo stare nel parcheggio finché non si sono viste altre macchine poteva essere ovunque e poteva starci se il dove andare non era importante per la scena in sé ma quando a un certo punto prende l'autostrada quindi si capisce che sta tentando di scappare da qualche altra parte in Gotham allora lì mi devi far vedere un percorso quantomeno per farmi capire che lui vuole andare da qualche parte e invece no è tutto una roba è tutto un gioco di primi piani quando invece i primi piani sarebbero serviti in altri momenti il film ha tanti elementi positivi ma probabilmente io ho sofferto di prosopagnosia cinematografica ovvero io ho visto tutti gli elementi positivi in questo film ma non riesco a vedere il viso completo di quest'opera non riesco a unire i pezzi se unisco i pezzi il risultato per me è confuso non mi piace sorry ragazzi scrivetemi qua sotto nei commenti tutti gli insulti che potete così il video sale di visualizzazioni grazie in anticipo io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video vi aspetto nelle prossime live dove potete anche insultarmi direttamente in chat e aumentare anche l'engagement delle mie live e come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video vi saluto vi saluto vi saluto vi saluto vi saluto vi saluto